Riavviato l'iter progettuale per l'E55, grazie a un confronto tra le regioni Emilia-Romagna e Veneto e il Ministero delle Infrastrutture. In arrivo il primo stanziamento di 4 miliardi da parte di ANAS, per collegare Ravenna con Ferrara e creare così un'alternativa alla Romea. Gian Antonio Mingozzi, presidente Terminal Container Ravenna, spera che sia la volta buona dopo 30 anni di illusioni e inutili dibattiti. In una battuta si potrebbe dire, speriamo sia la volta buona, perché sono almeno 30 anni che si parla di finanziamenti per l'E55, ma sono altrettanti anni che poi vengono bocciati o non passano il valio del governo. In questo caso i primi 4 miliardi di euro che sono stati stanziati in questi giorni serviranno in parte per la manutenzione dell'attuale E55 che non ha messa bene, diciamo la orte Cesena Ravenna, ma soprattutto serviranno per finanziare le nuove tratte, tra le quali l'alternativa alla Romea, cioè la Ravenna, Ferrara, Venezia, che per il porto di Ravenna, per i container, per il porto di Ravenna, sarebbe veramente una mano dal cielo, perché attualmente la Romea è veramente in grandi difficoltà a sostenere il traffico di mezzi più moderni, più pesanti e che si incrociano d'estate con il turismo, che speriamo ritorni naturalmente anche in questi momenti tristi che stiamo vivendo. Quindi diciamo che sono 4 miliardi spesi bene e siamo all'inizio di una nuova opportunità per collegare Ravenna, il suo porto, la sua economia in generale, con il nord Europa.